Da Dottor Palmas ti mostro un altro caso risolto, denti fissi con sistema bocca bionica, paziente che portava delle capsule in metalloceramica incollate sopra impianti dentali. Questa era la situazione di partenza, era già stato all'estero, era stato rovinato, gli avevano messo degli impianti dentali da incollaggio e tra l'altro avevano addirittura incollato radici naturali a impianti dentali. Il paziente aveva perso la fiducia nei dentisti, era già stato all'estero, era stato truffato, aveva risparmiato? No, gli avevano rubato i soldi perché gli avevano messo dei denti incollati, dei denti in ceramica brutti da vedere, assolutamente innaturali. Il paziente ha preso coraggio dopo diversi viaggi, addirittura aveva fatto un viaggio conoscitivo perché non si fidava più e arrivato da noi, gli avevamo detto che questi impianti erano tutti da rimuovere, ma lui non si fidava. Ha aspettato ancora due anni, dopodiché ha preso coraggio e è tornato. Abbiamo eseguito la chirurgia, posizionato gli impianti dentali correttamente dove dovevano essere posizionati, bifasici. Questi sono degli impianti che permettono poi di mettere le arcate corrette avvitate, quindi con sistema di multi-unit abatment. Fate attenzione alle truffe perché, ripeto, vi ho mostrato uno di quei casi in cui i pazienti vengono truffati all'estero con i denti incollati sugli impianti. Questo è il sistema corretto di come deve essere la sistematica, devono essere possibili svitare le protesi. Sulla sinistra vedi l'arcata in metallo ceramica incollata. Sul lato destro vedi invece gli impianti corretti. Abbiamo rimosso anche le radici che erano perimplantite. Prima di iniziare abbiamo simulato con una stampante in plastica le forme di denti che avremmo voluto ottenere. Dopodiché abbiamo testato le forme di denti con lo zirconio e la barra in titanio che puoi vedere sotto allo zirconio e che avrebbe dovuto mantenere questi denti. La barra che vedi bianca è tutto l'osso perduto. Quella è la parte di gengiva che noi dovremmo simulare. Qua vedi le protesi rivestite con la gengiva artificiale, i denti in zirconio che abbiamo prima testato partendo da dei mock-up in plastica, da dei draft in plastica, dopodiché viene aggiunta la gengiva artificiale. Nota il livello di iperrealismo di questi denti. Denti in zirconio, gengiva in composito, struttura in titanio che regge tutto, replica di denti reali, nota le traslucenze sul margine incisale di questi denti. Nota la texture di superficie dei denti, come riflette la luce anche la gengiva artificiale. Il resto dell'iperrealismo sarà poi dato dalla saliva che bagnerà le protesi. Questi sono i denti in posizione, semplicemente un capolavoro, un capolavoro dell'ingegneria odontoiattrica. Questa è la linea superior, la linea più avanzata al mondo, denti replica di denti reali, scansionati che vengono riprodotti roboticamente. Una copia di questi denti il paziente lo avrà a disposizione in cloud. Qualsiasi volta ne avrà necessità, lui potrà riguardare in digitale i suoi denti come sono progettati e in caso di necessità un click potranno essere riprodotti in fisico.